Questo programma è offerto da Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Ruggito Neroverde la trasmissione che vi porta alla scoperta del mondo bitonto Parleremo della partita giocata dal bitonto domenica scorsa 0-0 contro il Gravina terzo risultato utile consecutivo per la formazione guidata da Francesco Modesto e da Vincenzo Santoruvo e ci proietteremo verso la prossima partita impegno davvero proibitivo contro la capolista Tim Altamura una partita tutta da vivere una partita sicuramente difficile per un bitonto che però continua a mettere Fieno in cascina come detto terzo risultato utile consecutivo 5 punti nelle ultime 3 partite insomma il bitonto si mantiene in scia del gruppo che punta ai play out quando non alla salvezza diretta e naturalmente vedremo poi come andrà a finire anche perché ci avviciniamo sempre più verso il giro di boa del campionato e quindi è possibile che cominci davvero un'altra stagione per la formazione nero verde e per tutte le squadre impegnate nel girone H del massimo campionato dilettantistico ne parleremo con i miei due graditissimi ospiti Claudio Tangorre e poi insomma un abituema oggi ho il piacere di averlo qui in presenza ed è già di per sé una notizia Mario Sicolo direttore del da Bitonto è il piacere soprattutto mio di essere qui presente non con qualche collegamento piuttosto tormentato e dunque un saluto carissimo a tutti i fedelissimi nero verdi che ci seguono da ogni angolo multimediale e non solo dell'Orbe Terratra Bitonto Gravina 0 a 0 si parte da qui subito le immagini della partita e approfitto per ringraziare prima di lanciare il servizio WeWork che ci ospita nei suoi locali e Danilo Mingirulli per il supporto alla parte tecnica Bitonto Gravina A vincere la paura di perdere nella sfida salvezza in cui i punti in palio avevano un peso specifico raddoppiato finisce senza reti tra Bitonto e Gravina al campo sportivo Antonucci di Bitetto anche se non sono mancate le emozioni il 3-4-2-1 quello scelto nuovamente dal tecnico infantino dopo il capitale successo casalingo contro il Gallipoli Santoro punta centrale assente da Silva con l'inserimento dal primo minuto di Dejana Testoni all'esordio e Vidala alle spalle Coppola e Lauria in cabina di regia subito in campo gli ultimi arrivi anche in casa Bitonto con modesto Santo Ruvo a schierare ventola in avanti titolare con Palazzo e Despinara altro neo arrivato si fa preferire in fase di fraseggio però il Gravina almeno in fase iniziale che dopo un quarto d'ora di studio prova ad affondare il colpo con il cross di Chiara D'Ada a sinistra la sponda di Santoro e il tocco di Orlando a porta praticamente vuota ma da posizione defilata che coglie il palo della porta difesa da Diamè salgono poi di tono i padroni di casa con Stasi ci prova dal limite sfera sul fondo sugli sviluppi di un corner e il colpo di testa di Aprile a mettere solo i brividi a Vlascianu ancora impreciso il Bitonto questa volta con Fioretti smarcato in aria da un tacco di palazzo ma il suo tiro da posizione favorevole non trova lo specchio della porta e anche la parola fine sul primo tempo parte nuovamente meglio il Gravina nella ripresa davanti a un timido sole dopo tanta pioggia il tiro di Chiara D'Ada bloccato a terra da Diamè sempre il capitano della Gravina impegna l'estremo difensore di casa che deve rifugiarsi questa volta in corner c'è una posizione di offside in partenza per Gomez che sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da palazzo segna il vantaggio di casa ma il gioco è fermo per la segnalazione dell'assistente arbitrale nulla da fare e Bitonto ancora in proiezione offensiva questa volta con il neo entrato De Michele liberato al tiro da palazzo ma in Vlascianu a chiudere con un intervento decisivo lo specchio della porta ci prova anche Spinar nel finale con un tiro dal limite che si spegne però sul fondo di poco e anche la parola fine sul match Bitonto e Gravina non si fanno male e restano appagliate a quota 13 in classifica con la Palmese che a questo punto ha raggiunto le due squadre dopo il successo esterno nell'anticipo di sabato pomeriggio squadra di modesto Santoruvo che trova però un minimo di continuità con due pareggi e una vittoria e domenica dovrà vedersela sul complicatissimo campo della capolista Altamura il Gravina tornerà invece tra le mura amiche questa volta per affrontare la Gelbison Diamo uno sguardo ai risultati dell'ultimo turno del Girone H di Serie D e dunque Gelbison Palmese 0 a 1 Barletta Martina 2 a 5 risultato pesante per la formazione bianco-rossa con strascichi anche importanti Bitonto Gravina 0 a 0 abbiamo appena visto le immagini Gallipoli Team Altamura 0 a 2 Manfredonia Fidelisandria gara sospesa per un infortunio occorso al direttore di gara sul parziale di 0 a 2 Matera Casarano 3 a 1 Paganese Angri 2 a 0 Rotonda Nardò 0 a 3 Santa Maria Cilento Fasano 2 a 2 per una classifica che si delinea in questo modo comanda sempre il Team Altamura che sarà il prossimo avversario del Bitonto domenica alle 14 e 30 segue il Nardò a 30 punti 27 punti per Matera Martina Casarano 21 per Fasano Gelbison Fidelisandria e Paganese anche se la Fidelisandria al pari del Manfredonia va considerata con una partita in meno 20 punti per Barletta e Rotonda e poi comincia il gruppone chiamiamolo così 17 punti per Langri 14 per Manfredonia e Santa Maria Cilento 13 per Bitonto, Gravina e Palmese 9 per il Gallipoli insomma Claudio una partita sicuramente resa non facilissima anche dalle condizioni atmosferiche di domenica era uno scontro diretto importante insomma in qualche momento forse si è sentita si è sentito il peso della posta in palio assolutamente era una partita comunque importantissima perché era appunto uno scontro diretto eravamo lì tutti e due volevamo vincere però alla fine il risultato è andato sullo 0-0 però ci accontentiamo di questo punto che fa morale continuando con la striscia positiva di tre risultati utili consecutivi e quindi noi continuiamo su questa strada domenica abbiamo l'Alta Mura partita tosta però noi lo staff preparerà la partita nel migliore dei modi e noi lo seguiremo alla grande sicuramente Mario possiamo leggerla da destra possiamo leggerla da sinistra lettura da destra quello che dicevo in apertura di trasmissione ossia terzo risultato utile consecutivo 5 punti in tre partite la porta di Diame che rimane per tre partite consecutive inviolate è inviolata e non è poco se consideriamo lo score precedente questo miniciclo una classifica che lascia il bitonto nel cosiddetto gruppone che guarda alla zona play-out ma soprattutto alla salvezza diretta lettura da sinistra si poteva magari portare a casa i tre punti nella partita con il Gravina soprattutto in previsione del fatto che era uno scontro soprattutto considerato che era uno scontro diretto e in previsione del fatto che domenica c'è la capolista toccano le due murgiane una dietro l'altra il bicchiere mezzo pieno lo hai già allumeggiato abbastanza egregiamente tu e se noi ci riflettiamo su questo rispetto a quello che era stato il cammino del bitonto fin qui sono punti che fanno bene al morale alla come si suol dire mettere il fieno in cascina non si sa mai soprattutto in prospettiva futura perché teniamo conto che è sempre meglio come diceva un portiere a Teccaro meglio due feriti che un morto in questo caso come è successo oggettivamente nel pareggio con il Gravina giusto per inciso perdonami è una frase che ha coniato qualcun altro un po' di tempo prima che poi è stata mutuata certamente qualcuno che tu hai visto giocare non io sì sì assolutamente sì a me data l'anagrafe sì è capitato anche questo quindi per dirti indubbiamente il bitonto non solo ha messo punti in cascina e quindi ha messo punti nella sua classifica che era decisamente asfittica precedentemente ma soprattutto sembra aver cambiato atteggiamento nei confronti proprio dell'approccio ad ogni singola partita perché giustamente aver fatto per la terza volta consecutiva clean sheet ebbè non è poco io nel bicchiere mezzo vuoto ci vedrei piuttosto i due punti che forse si potevano artigliare con l'Andria nel senso che sì è vero che abbiamo portato via un pareggio che magari a prescindere se uno avesse potuto firmare ebbè sì ci avrebbe griffato sotto il proprio autografo ma in realtà dopo per come si misero le cose con l'espulsione di Strambelli ad inizio match probabilmente quella poteva essere una partita da vincere e probabilmente con quei due punti ci saremmo non dico staccati dal gruppone che era impossibile però quantomeno staccarci da quelle che sono a 13 punti al penultimo gradino della classifica quindi sottolineo un cambio ripeto proprio di atteggiamento della squadra che sicuramente parte per esempio da un certo eclettismo tattico come è stato predicato dal mister Francesco Modesto e sicuramente in uno con Vincenzo Santorubo ebbè la squadra cambia durante la partita le diverse disposizioni tattiche non dimentichiamo che domenica per esempio poteva in alcuni frangenti ha giocato anche con tre punte con Palazzo con Espinar con Ventola quindi che sono già subito andati in campo e quindi la squadra comincia a cambiare pelle sotto l'aspetto tattico senza però perdere questa sorta di invulnerabilità difensiva che secondo me a lunga andare davvero potrebbe fare la differenza perché come bene tu hai ricordato lo score precedente era sicuramente disarmante da parte dei Bitontini e se poi teniamo conto del girone nel quale ci ritroviamo a giocare beh rimanere per tre domeniche con la rete in tons non è assolutamente facile hai citato i nuovi acquisti che sono stati gettati nella mischia subito da Vincenzo Santoruvo e Francesco Modesto la tua prima impressione? sicuramente avranno bisogno di altro minutaggio nelle gambe soprattutto per capire in quale gruppo essi si ritrovino soprattutto per quel che concerne poi la traduzione in campo dei concetti che vengono sussunti in settimana però onestamente io riflettevo su questo ci aspettavamo un intervento più massiccio a livello di mediana però poi in realtà si è visto che hanno trovato hanno cercato degli uomini a rinforzare soprattutto il settore offensivo perlomeno dalla tre quarti in su sia convento la espinar e probabilmente serve anche quello se noi pensiamo che ai noi se è vero come è vero che la porta resta inviolata ecco l'attacco magari finora ha mostrato di avere le polveri bagnate e noi abbiamo bisogno veramente come il pane o come l'ossigeno di tornare a segnare e se teniamo conto che grosso modo gran parte dello score delle reti fin qui segnate le ha firmate Tedesco e altri insomma Naclerio in qualche occasione e poi ovviamente il capolavoro segnato appunto due domeniche fa dal nostro capitano che ci ha dato la vittoria fuori casa e beh dovremmo tornare a far gol soprattutto col reparto offensivo e secondo me gli attaccanti devono solo trovare il momento per sbloccarsi e poi sicuramente dovrebbero tornare a mirare di più e meglio la porta avversaria Claudio un gruppo che sta accogliendo nuovi elementi ne sta salutando degli altri ecco questa fase come la state vivendo internamente? Internamente siamo sereni siamo tranquilli abbiamo in mente solamente l'obiettivo quello di far bene ogni domenica dare tutto in allenamento poi diciamo che fa parte del calcio c'è chi va c'è chi viene però noi stiamo accogliendo tutti alla stessa maniera siamo un gran gruppo quindi anche il capitano Simone accoglie tutti in maniera in un'ottima maniera quindi alla fine su questo non ci possiamo proprio lamentare poi ecco qual è stato invece in campo il momento nel quale avete accusato maggiormente una certa sofferenza se c'è stato e quello in cui invece avete sentito che l'inezza della partita stava diventando favorevole a voi beh sicuramente abbiamo sentito che la partita era favorevole ai nostri confronti nell'ultima parte di gara gli ultimi 20 minuti abbiamo avuto molte occasioni sia quella di De Michele sia quella di Espinar anche il gol annullato a Murillo abbiamo comunque avuto tante occasioni magari la prima parte di gara del primo tempo abbiamo subito un poco il loro approccio aggressivo però alla fine ci siamo difesi alla grande ed è quello che stiamo consolidando in queste ultime gare bene allora pregherei la regia di mandare il contributo le parole in conferenza stampa di Francesco Modesto non riuscivamo a fare delle scalate giuste poi nel secondo tempo abbiamo preso un po' le misure abbiamo avuto una reazione facendo anche dei cambi abbiamo avuto anche un paio di occasioni e gol che non siamo riusciti a realizzare a finalizzare un peccato ci teniamo stretto questo pareggio perché diciamo che un tempo a testa ci sta Espinar deve migliorare a livello fisico anche se ha fatto 90 minuti però sotto porta abbiamo visto che era un po' stanco secondo me e questo ha influito tanto anche noi ci aspettavamo una vittoria contro il Gravina però il calcio è questo diciamo che abbiamo fatto un passo indietro a livello caratteriale perché ci aspettavamo una partita più gagliarda più di di personalità e questo non c'è stato è un peccato però avevamo di fronte anche un Gravina che è venuto col piglio giusto questa è stata la differenza bene rieccoci un bitonto che sta cambiando pelle dicevi correttamente Mario ecco che bitonto dobbiamo aspettarci nel 2024 secondo te io penso che no mi perdono certo certo io penso che ovviamente ci sarà un'evoluzione sicuramente in positivo perché come bene ricordava Claudio ebbè nelle ultime giornate il bitonto ha prodotto tante occasioni da gol ecco questo che andava sottolineato quando prima parlavo di un attacco piuttosto avaro a differenza delle prime giornate sta cominciando a produrre numerose chance davanti che prima o poi dovrebbero tradursi io mi auguro che si continui ad avere una difesa piuttosto impermeabile anche per il prossimo anno e ti dirò di più Vince io mi auguro già la prossima domenica prima ancora che arrivare al 2024 non è facile cercare di mantenere appunto la porta inviolata poi un centrocampo che peraltro io parlavo prima degli interventi anche di mercato però voglio dire che i registi quelli che ora si stanno palleggiando la responsabilità di portare avanti la linea mediana Carlo Clemente anche Spinar domenica scorsa ma in passato anche altri che sono stati lì a gestire Chacon stesso beh cominciano anche a dar manforte soprattutto ai ragazzi che di solito vengono sistemati sugli esterni che nel tempo stanno essi stessi prendendo consapevolezza del loro ruolo all'interno di una rosa così fatta e di un campionato come questo perché anche questo è un aspetto che secondo me andrebbe sottolineato che i giovani e non parliamo ovviamente del nostro ospite che è da considerarsi quasi un veterano sia per l'esperienza fin qui maturata sia per come come noi come me soprattutto mi dice tu sei giovane per fortuna quindi cominciamo a vedere i ragazzi quelli che non avevano minutaggio nelle gambe che pian piano stanno facendo esperienza proprio cammin facendo domenica dopo domenica e quindi mi auguro di continuare ad avere una difesa impermeabile un centrocampo sempre più generoso e fantasioso soprattutto creatore di azioni da gol per gli attaccanti è appunto un reparto offensivo un po' più pungente e questo potrebbe darci diciamo un ritratto un leone un po' più aggressivo e ruggente per il prossimo anno Claudio un primo bilancio di queste prime settimane di lavoro con Vincenzo Santoruvo e Francesco Modesto un cambio di guida tecnica dopo l'addio di mister Loseto ecco c'è un momento un'istantanea che secondo te è diciamo esplicativa del lavoro che state svolgendo da quando sono arrivati i due nuovi mister sì assolutamente in queste ultime settimane soprattutto i mister hanno cambiato metodologia di allenamento proponendo allenamenti sempre più intensi comunque curando tutti i piccoli dettagli che magari durante le partite precedenti si evincevano quindi curando questi dettagli cercando di appunto costruire una fase difensiva più solida e anche una fase offensiva perché comunque creiamo molto e i nostri attaccanti alla fine fanno gol perché oggettivamente abbiamo degli attaccanti molto forti è un momento e pian piano comunque riusciremo a far gol e a dimostrare il nostro vero valore Mario il lavoro tu parlavi parlavamo delle prospettive proprio nel nel tuo ultimo intervento un lavoro che poi piano piano diventerà sempre più radicato perché chiaramente man mano che si va avanti e si porta avanti un certo una certa idea poi quell'idea attecchisce sempre di più penso di sì tieni conto che anche nelle diverse interviste che ha rilasciato finora Francesco Modesto che sicuramente come dire interpretava anche il sentire del suo collega di Panca ha insistito soprattutto su questi elementi cioè i concetti ecco che attraverso il lavoro stanno cercando di trasferire i ragazzi e la fantasia appunto Spinarsha con questi giocatori che magari ponendosi tra il centrocampio e la tre quarti potrebbero cominciare a suggerire passaggi piuttosto illuminanti per gli avanti e beh il concetto in sé significa condividere anche con i ragazzi che lavorano quotidianamente va aggiunto anche fermo restando diciamo l'ammirazione fermo restando l'ammirazione nei confronti del dottor Acella però del professor Acella teniamo conto che è arrivato anche il professor Ventura come preparatore dei ragazzi e che sicuramente starà cambiando anche egli metodologia conoscendo insomma Michele la grande esperienza che lui ha sicuramente starà cambiando qualcosa anche appunto nel metodo d'allenamento dei ragazzi e quindi cominciamo a vedere questa condivisione fa sì che il lavoro poi si traduca in una crescita di tutti quanti che va alla perfezione a sintonizzarsi col modo che hanno i due mister di vedere i ragazzi tutti sullo stesso piano tutti sullo stesso livello e quindi tutti quanti democraticamente pronti e utili alla pugna quotidiana domenicale e questo credo che possa essere il segreto per far sì che si ricompatti tutto il gruppo e possa recuperare quella coesione che serve necessariamente per andare in battaglia domenica dopo domenica Claudio faccio a te una domanda che normalmente faccio ai tuoi compagni che vengono ospiti della nostra trasmissione e cioè guardare un po' al di fuori del contesto bitonto normalmente ai tuoi compagni soprattutto quelli un po' più di esperienza ho sempre chiesto c'è qualche squadra che ti ha sorpreso positivamente e c'è qualche squadra che invece ti ha deluso ti chiedo e chiedo anche a Danilo Vingeruli di rimandare la grafica con la classifica del girone H di serie D tra le squadre che diciamo lottano con voi per l'obiettivo salvezza diciamo il famoso gruppone di cui parlavamo in precedenza c'è una squadra che come dire temi più di altre o ce n'è una che magari ti ha sorpreso in negativo? No comunque è un momento è un momento difficile della stagione quindi tutte le squadre lottiamo tutti per un unico obiettivo quindi tutte le squadre sono diciamo a pari livello magari c'è qualcuno più organizzato magari come la Palmese anche la vittoria che abbiamo fatto fuori casa domenica scorsa una squadra molto forte organizzata per cui penso che abbiamo fatto una grande una grande vittoria ma anche il Gravina stesso una squadra molto organizzata anche loro l'hanno dimostrato domenica quindi penso che alla fine lotterà chi ha più voglia cioè si salverà chi avrà più voglia di di farlo e chi avrà più fame soprattutto Mario continuiamo a guardare la classifica e notiamo che il Manfredoni rappresenta un po' diciamo Manfredoni-Angri rappresentano un po' le colonne d'Ercole diciamo letteraria memoria ecco la bagarre per la salvezza si ferma lì o secondo te è il caso di guardare anche a chi sta un gradino più su e ogni riferimento a Barletta e Rotonda è puramente voluto è causale è causale nel senso che sì oggettivamente io riflettevo sul fatto che magari per esempio la sorte del Barletta visto anche quello che sta succedendo nella città a noi vicina ricordano molto le sorti del Barletta ricordano molto quelle del Monfetta dello scorso anno che erano partiti ovviamente anche i biancorossi con altre mete no? altre ambizioni e poi improvvisamente si sono ritrovati a calare certo anche il Rotonda che ha dimostrato di essere sì una squadra ben organizzata ben allestita però potrebbero essere risucchiate dalla bagarre per la zona play out tenuto conto che se come bene tu ricordavi quelle colonne d'Ercole sono state fatte affinché l'uomo non si metta oltre come diceva qualcuno ebbè noi speriamo invece che a differenza dell'Ulisse dantesco il Bitonto abbia miglior sorte e possa tranquillamente valicare quelle colonne e quantomeno passare al di là se non addirittura dalla parte sinistra che non è sinistra è negativo ma è soltanto come posizione della classifica diciamo che quelle colonne d'Ercole nessuno doveva superarle queste colonne d'Ercole tutti vogliono superarle che la superi almeno il Bitonto almeno questo diamo allora dunque uno sguardo al prossimo avversario ossia la capolista il team Altamura che affronterà il Bitonto domenica alle 14.30 le immagini dell'ultimo appuntamento di campionato della formazione murgiana e poi ne riparliamo il classico testa coda che può riservare insidie ma che il team Altamura Dugento contro un pericolante Gallipoli affronta nel modo giusto e con pazienza sino a metà seconda frazione quando a sbloccarla ci pensa il solito Nicolallo Iodice su calcio di rigore momento magico per l'attaccante murgiano sempre più decisivo per la squadra di Giacomarro e a segno quattro volte nelle ultime cinque gare da contraltare c'è il momento complicatissimo del Gallipoli Giovanni Cavallaro sempre più ultimo in classifiche alla quarta sconfitta consecutiva senza mai andare a segno out l'attanzio per l'infortunio c'è il trio Iodice Saraniti Carmudi in avanti nel 4-3-3 di Giacomarro in panchina il neo arrivo a Diego Mobilio che sarà però un grande protagonista il 3-5-2 per il Gallipoli in cui Mariano e Capnidis sono le punti avanzate mentre il neo arrivato Tiamo in panchina meglio l'altamura in partenza con due volte Saraniti che prima in sforbiciata alza troppo la sfera e poi con il destro manda sul fondo da buona posizione una sfera invitante chiedono a un presunto tocco con un braccio i murgiani su un calcio di punizione diretto in porta a Dilo Iodice tutto regolare per il direttore di gara resiste il Gallipoli nei primi minuti e prova anche ad affacciarsi dalle parti di Fernandez con un tiro di De Maleon che finisce di poco sul fondo invitante in aria al quarto d'ora il cross di grande ma la difesa di casa sbroglia tutto decisamente più pericoloso dall'altro lato lo slalom di Capnidis che salta tre uomini Altamurani e solo davanti a Fernandez si fa anticipare con i piedi dall'estremo difensore ospite in uscita Bolognese alla mezz'ora prova a piazzare il pallone dal limite palla alta Dima è attento due volte prima sul tiro di Lo Iodice angolato e poi sul tocco di Saraniti palla in angolo sempre il fantasista barese a provarci allo scadere di prima frazione direttamente su calcio di punizione deviazione decisiva ancora di Dima in corner primo tempo in archivio e ripresa in cui è subito Lo Iodice a provarci con il destro questa volta la palla non gira abbastanza dall'altro lato il tiro di Capnidis non inquadra lo specchio davvero di poco la svolta sul match arriva all'alba del quarto d'ora però quando il neo entrato a Diego Mobilio penetra in aria di rigore c'è un presunto contatto con un difensore di casa per il direttore di gara e penalty dal dischetto implacabile Nicola Lo Iodice che firma il suo ottavo centro in campionato e il gol che indirizza inevitabilmente il match piove tanto su Ugento ma è sempre Lo Iodice a illuminare con un tiro che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessun compagno riesca a toccarlo in porta il neo entrato Munoz a provarci per i padroni di casa Serpentina che trova però attento Fernandez nel finale poi con il Gallipoli sbilanciato arriva anche il raddoppio Molinaro serve sulla corsa da sinistra Lo Iodice bravo di prima intenzione a smarcare a Diego Mobilio che bagna il suo esordio da grande protagonista nella mezz'ora in campo un calcio di rigore conquistato e un gol per presentarsi ai suoi nuovi tifosi non c'è più tempo Cavallaro porta con sé qualche buona indicazione soprattutto nel primo tempo per Giacomarro solo conferme di una squadra in salute e convinta dei propri mezzi domenica prossima sfida al D'Angelo contro il Bitonto per il team Altamura mentre il Gallipoli sarà di scena ad Angri Bene abbiamo visto come si è comportata nell'ultimo turno la capolista quali sono i punti sui quali lavorerete di più in quel che resta di questa settimana per arrivare al meglio ad una sfida così delicata e importante Comunque affrontiamo una squadra che tutti quanti sappiamo il loro valore i loro nomi quindi prepareremo la partita nel migliore dei modi sicuramente continuando sui nostri punti di forza i quali la difesa cercare di non subir gol nuovamente però questa volta cercare di farlo anche perché noi andremo lì sicuramente non per arrenderci ma sicuramente proveremo anche a vincere perché è giusto che sia così è giusto per il nostro obiettivo andare lì e fare la nostra partita vedremo cosa cosa ne verrà fuori però noi daremo tutto assolutamente Mario come si dice in questi casi non succede ma se succede ci sia quello che succeda al di là di questo beh io dico che abbiamo avuto come dire delle squadre in vetta che si sono alternate però probabilmente è arrivata quella che nonostante non abbia assolutamente dato avvio ad una fuga per carità perché sono soltanto tre punti e dietro Minacci si avvicinano abbiamo visto già Nardò Martina Casarani insomma squadre che in materia stessa che tranquillamente possono aspirare alla vetta però oggettivamente finalmente abbiamo una capolista seria indubbiamente cioè fatta in maniera tale affinché si possa come dire protendere verso la Serie C oggettivamente una rosa un roster come dicono in altri sport col cuoio in miniatura e beh di tutto rispetto con qualche ex che sta facendo sentire il peso del proprio valore della propria classe indubbio per noi che abbiamo sempre seguito le vicende pallonare noi speriamo indubbiamente l'atteggiamento deve essere e io sono sicuro quello di umiltà nel momento dell'approccio ma poi assolutamente non cedere mai non abbassare mai la guardia dinanzi a un avversario per quanto forti da guerrito come quello Altamurano ripeto con giocatori Riccardo Nicola giocatori che insomma è meglio averli che non averli contro indubbiamente io penso che i ragazzi preparati soprattutto psicologicamente dal duo che abbiamo in panca affronteranno il cimento degnamente bene allora vedremo come andranno le cose domenica fischio l'inizio alle 14.30 di Team Altamura Bitonto una sfida sicuramente impegnativa per la formazione Nero Verde una sfida che noi commenteremo proprio qui in questa sede giovedì prossimo nella puntata nuova puntata del Ruggito Nero Verde ci salutiamo per questa sera ringrazio i miei graditissimi ospiti ringrazio Claudio Tangorra grazie a voi e ringrazio Mario Sicolo grazie a te Vincenzo un caro saluto a tutti i tifosi bitontini ringrazio in ultima battuta anche WeWork che ci ospita all'interno dei suoi locali e ringrazio Danilo Mingirulli per il supporto alla parte tecnica l'appuntamento è per giovedì prossimo con il Ruggito Nero Verde ma non dimenticate la partita di domenica Team Altamura Bitonto fischio di inizio alle 14.30 e noi quindi ci vediamo tra una settimana ciao questo programma è stato offerto da De Caro Caffè Caseificio Gioia Jazz British Coviello Vernici WeWork www.weworkpoint.it